Ricordate quando Tiziano Ferro scrisse la fine? Ecco, io ho messo qualcosa di mio Arriverà la fine, ma non sarà la fine E come ogni volta ad aspettare e fare mille file Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno Io so chi sono e l'ho scoperto vivendo Soprattutto quando ho sofferto di burlismo Io ti sto vicino a te che hai sofferto Perché capisco il dolore che hai dentro Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani Per riniziare, per stravolgere tutti i miei piani Perché sarà migliore e io sarò migliore Come un bel film che lascia tutti senza parole